io devo finire un momentino le quest ok comunque gli eroi ne ha cambiati molto te lo dico perchè ha fatto delle reward ad esempio Maltel è stata cambiata adesso fa molto più male c'è una ulti che non serve più a un cazzo perchè mi ha messa di base stessa cosa Jorgin è diventato abbastanza più consistente come eroe muore sempre alla cazzo di cane però però è diventato molto più con molti più danni rispetto a prima allora io devo imparare sto cazzo di roe l'ho preso quando è uscito ho capito il mio amico ci fa di quelle cose impressionanti io invece ci faccio delle cose veramente pietose ci c'hai? ah ok non ti funziona il microfono non abbiamo capito ma va a cagare fa un culo ho preso una marea di danni ahhh 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 bello che palle ovviamente l'idea non ce l'abbiamo non un colo Azzì, bro! Merda! Cazzo! I mutanti sorgono! Uccideteli! Impossezzatevi dei loro semi! Ma vaffanculo i minion! Uffa! Sparecchiadoli! Sparecchiadoli! Unure e gloria! Affrontati! No! No! Sento l'odore dei venti di guerra! No! Eeeh Troppi danni Eeeh Mezzidro Come far morire Valla In due secondi Minchia Siamo 3 a 10 Porca Cazzo Senza curatore Veramente devastante La storia Va bene Devo credere Prendo tutto Perfetto Voglio disfarsene Reclamo la tua vita Uffa Uffa Ops E' morto Fare a me Ma Oc C'è Ocane porco Che non lo prendo Ma Che telefono E' morto E' morto C'è E' morto E' morto E' morto E' morto E' morto E' morto I' morto che coglioni Tutti i show, doppie specialistiche e panna E vada una cosa che ti da faccio i mutanti sorgono uccidete li e raccogliete nei semi eh non c'ho un cazzo di che palle intanto ci andiamo a morire la Belinda 3 livelli in meno ottimo guido l'azione io ti distrutto il terrore del nemico è finita per adesso ma non rilassate di avanti più le pesate fare l'auto che cosa c'è guido l'azione guido l'uomo guido Coccale porco! Mi dispiace tanto, ma i vostri nemici hanno generato un terrore. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Zagara praticamente non ha fatto un cazzo. Oh, che bello. Pagheranno per questo. Nucleo sotto attacco. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Quattro livelli sotto. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Pagheranno per questo. Questo mi tornerà ultimo. Culo, porca troia, maledetta! Il vostro nucleo è sotto attacco! Ammira! Ora tocca al nemico morire! Non lasciate che vi attacchino il nucleo! Il vostro nemico ha generato un terrore! Non ti lascerò morire! Guarda, dammi la data! Il vostro nucleo è sotto attacco! Dai, fai a finire questa merda! Oh, finalmente! Nessuna sconfitta! Può sradicarci! MVP! Può sradicarci! Può sradicarci! Un po' sradicarci! Un po' sradicarci! ciao ragazzi allora mamma mia allora ho invitato shaneth all'interno del gruppo però è da tantissimo che non gioca lui però non ho ancora capito se lo prende se l'ha preso oppure meno allora vediamo un po' salute c'è un bel po di aspetta che glielo dico vabbè io questo eroe qua però lo cambia perché non sono nicola e si nota ma si nota veramente allora volevo vedere chi potevo prendere no e' ma c'era non è un line no no c'era non c'era a me non ho visto ok ok si no infatti non l'avevo visto anche no c'era c'era un po' di influenza c'era avuto un po' di influenza non so ieri sera c'era poi andiamo i sgarosci quello lì i sgarosci eh non so abbiamo uno i garosci no ok forse c'è no è shaneth ok è finalmente entrato nel gruppo perfetto così almeno però c'ha le cuffie e mi sa che li funzionano male quindi forse ci ascolta ma non ci può parlare tanto mi giuro la richiesta di inizio era un vecchio giocatore l'ha ripreso da poco e le cose che sapeva fare perchè lui aveva giocato anche a loro però allora aspetta l'attimo che ti muto in game perchè ti sento doppio ah beh sì allora va bene preparatene chi ha per combattimento c'era qualche cosa di interessante no io devo stare solo attento a non morire alla cazzo cosa che è molto facile con voi la GVG hanno un team sporco loro eh hanno un team da farming e tra l'altro c'è anche la signorina cromica non per cazzo 5 4 3 2 1 un po' di asti o versale se non c'è lo consiglio si è un leggero sta smadoneando in tutti i modi possibili e immaginabili ma comunque uguale non è un problema è tutto divertimento che entra 2 2 2 2 2 2 2 3 bravo diavolo oddio c'è il paras allora facete la cosa ce l'hai te puoi venire tutto giù alla chiara perché ho già usato la fontana c'è il tema allora ascolta una cosa fate tutti i mercenari quelli sai quelli da due li fai in due secondi però mi serve la tua mano ci arrivo io sì perché ho già usato la fontana oh mio dio oh vai 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 o ho iredo così posti popol sì che cura colla a non ti preoccupare no ma infatti per quello detto mi sembrava male, pensò fosse la Chiara chi è la Chiara? Ah, la Chiara è Shara, ecco beh, alla Shara sono solo se mi senti, però se mi senti mi faccio un attimo sti campi poi vengo a prendere naturali scegli un talento non si, faccio una bella cosa, vado a consegnare perché non mi senti tutto ce ne hai quattro a te? ce ne ho quattro lì ho ancora la consegnata nessuno c'è Mario che c'è 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 il Dario che sta a consegnare altro ma arrivo ce la fai, ecco, no, che peccato no, no, vai a consegnare eh ma, vai a consegnare poi ce ne vediamo sette minchia che cazzo sì sì, vado a consegnare sì, c'è cromo mi amica non è un progetto un progetto ok, e allora 4 box posto 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 scegli oddio oddio grande la via grande 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 ci potrebbe fare anche questo vabbè io intanto pulisco sti tanti si intanto fai a te e fai presto bella di trace che veramente fai presto con quelli delle miniere fai ancora prima eh devo prendere il talento mi sa che al 13 quando c'è il bomba prende tutti io prendo doppio ok arriva silvana silvana ok i midi sono il 3 e giù sono il 2 allora il 2 ci sono anch'io se ci stiamo un po' si aspetta prendiamo i pensionari e poi qui so spondati anche i i dobbini un po' grazie sta venendo silvanas ok, poi sei a cosa dai che fanno eeeh non puoi farci un cazzo in tre puoi rallentamento se c'avevo il testing o no è un'altra cosa ma non ce l'avevo io cerco di consegnare smicchi smicchi ma non penso di riuscirci forse si sotto sotto che arrivano tutti ah c'è, no c'è silvanas è troppo guiota è troppo guiota silvanas ma io consegnare? si venisce madonna che paura carro ce lo fa no va bene no non ci posso fare niente tanto che non c'erano monete quindi oh adesso c'erano del 10 ah abbiamo appena perso il forno ah in realtà c'erano tre soltanto in realtà si bisogna difendere perché c'erano 9 e c'è silvanasotto c'è silvanasotto c'è silvanasotto non no oddio qualcuno avete visto silvanasotto sotto giù ci se ne volta ho proclunto ok allora io vado a prendere i loro doblò Se viene qualcuno facciamo anche il campo perché mi sa che non c'è nessuno, invece c'è qualcuno, madonna, va beh difendiamo subito questo campo giù, vabbè difendo io C'è da levare, Sylvanas, Garrosh e Stucco Aspettatevi a vedere se deve essere il duo di favore Brucia, baby brucia Grazie, grazie, mi fai aumentare Grazie FN Penso che ne abbiano avuti abbastanza Ok, l'oro che deve chiamare che non vanno tantissimo Sylvanas Sylvanas Cazzo è andata con lei A proposito da quanto è che non la uscite Ieri, foto 17-0 easy-peasy Perché cosa è cambiato a cosa? Oh, c'è da prendere un tipo di talento Ok Allora, al 16, prendi l'ultimo talento Ah, sì sì, lo prendevo anche prima Quello della ricarica, giusto? Sì, ogni volta che ti ricarichi Sylvanas Sì sì, lo prendevo anche prima, è proprio divertente Bravo Prima mi sa che il tussiro ne devono il posone Se non scaricare il caricatore su uno, fa più damage E lo prendevano a dire Nooo, nooo, il tonto sulla E, madonna Nooo Ti hai recitatto da questo Scusa però Ehm Io nel 13 però A te mi sa che hai preso il talento Quello del Ho preso Hai preso raffiche di No Ehm Sì Ragio di Mischi, infine di Degna Tutti i nemici a portata Io invece prendo quell'altro Ogni tanto prendo rimbalzo Esatto Siccome sono più avuti Se c'è Sylvanas E Jayla Ci bussano No, più che altro perché se c'è tanti maghi E' utile averci quell'altro Cazzo il castingo non c'è ancora Cazzo il castingo non c'è ancora Cazzo il castingo non c'è ancora Madonna, sono morto per l'idiotico Quanto c'hanno o tutte le monete Quanto c'hanno o tutte le monete Scegliti un talento Olè Realmente Ops Allora 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 io direi no, mica male che non l'aveva usato l'inizio fisico, c'è uno che entrava dentro al forno no, non possiamo segnare 6,2,9 ce ne abbiamo e non sono neanche morta 5 volte sono morto, sono morto dipendiamo perché posso no, non posso lo segnare arrivo lì a consegno cazzo, non so il testino cazzo 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 aveva un po' cazzo 5 per arrivare a questo principale di Giugio ok, c'è la Chiara facciamo il campo aspetta che mando via sta troppo oh forse si no, no, non ce la fai perché siete su una colata ti inculano ce ne sono in tre come fate il campo velocissimi oppure non ho tentatene nemmeno li ho consegnati a loro oh veloce eh, te l'ho detto li ho consegnati a loro oh eh, no, niente no, no, niente eh, te l'ho detto è colpa mia spesso tanto indietreggiate che vi venga a dare una mano intattamina a pulirla intattamina a pulirla oh, lo stanno prosegnando vai a farti cose subito mi sa che trovo ci trovo un po' di gente eh, mi sa anche a me ma te lo fai in BionC c'è stucca grazie vai, ci servono Keltas via, via, via vediamoci di qua tutti e qua ci sono non utile che stiamo qua li facciamo solo ammazzare che Keltas è qui tra 6 secondi ci facciamo sto caso no però no andiamo a difendere andiamo a difendere qui c'hanno 12 monetro beh, beh perché Keltas se ce lo fai in un seconde ma ha finito la quest? si, va bene si, va bene no 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 chi è che ha tante? diablo diablo e che fa l'obbio? non lo so penso che faccia il cazzo suoi eh, Keltas e Tracer vedete c'è una moneta e basta ok fatevi il campo sopra velocemente loro ce ne hanno asciutto 3 ma loro possono segnare no 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 non c'è niente a difendere che cosa sta hai trasciato Shalex non è un coincine Sì, però se diablo la smaccio ci vado a cena. Perché noi non ci abbiamo un tank? Diablo, boh, sta passeggiamo. Boh, a questo punto andiamo dietro lui, perché lui dietro noi non viene. Non c'è l'ottomonete, cioè. Non so forse dobbiamo dipendere il boss. Consegnata, veloce. Sono al boss. O andiamo al boss o facciamo push a moto a bot. Io direi di push a moto a bot. Basta che consegna con la testa di ciuffciuffoli. Pusciamo, pusciamo a moto. Sono già qua. Bello, gli aveva protetto anche. Eh, linda. Niente, abbiamo cambiato la posta. Sì. Fate taccere i cannoni! Niente, abbiamo cambiato le tema personal. c'erano 5 come cazzo faccio no quasi massacrata 1 ma non c'è veramente di abbastanza giocando solo perché caro c'è da solo non può andare se va da solo si muore con un pierla e testa in gruppo noi ci abbiamo un tank che non fa un cazzo così c'è così che ci vuoi fare eppure mutato imbecile grande ha levato cromi già vuol dire levare una lottura di palle in più sono a consegnare diablo è che fatti suoi e noi non possiamo dipendere c'è una 10 diablo te ne rendi conto è un mongolo posso te lo interrocca ma non penso questo è un problema non perdiamo ma ci siamo molto vicini ho ancora consigliato quell'idiota cioè vabbè ma a me non sa giocare col coglione lì levate Silvanas non è un casino non perdiamo Ah, che c'è qua? Ah, che c'è qua? Buono, che c'è qua adesso Cromi in alto Che è che pinga? Che ne vuole? Che vuole, che c'è qua? Ma pure parla pure Posso farlo? Dobbiamo difendere Dobbiamo difendere in base Ecco me Oh, queste pure sono belle Ah, ce l'abbiamo a mano Dovete consegnare in velocità Sono tutti lì Madonna, no, per favore Di abbo, te prego Oh, guarda qua, guarda qua Da solo Stanno arrivando da dietro Tento Eh ma, dentro Perché stanno arrivando da dietro Ok, sono saluto su Eh, però mi sa che Foglio il fight non va bene Via, abbiamo un buon bias Un po' Un po' Un po' Un po' Consegnate Veloci Ammazzare sul balance Non fate di fight Mio, Kurt Un po' Sperato Potpetta Il Mio C'è Quension e non ci manca ce ne manca una facciamo sto qua e poi seguiamo ok perchè non devi andare a fare velocemente consegnare che possiamo consegnare non ci manca una segnalo arriviamo qui e aspetto di vedere cromi e jane no ok bello ok in giro eh se non c'è qualcosa che lo è a morte eh tanto dovremmo aver vinto penso dovrebbe tutte le canonate dovrebbero servire per il muro non era un diabo una chiavica personale eh eh è anche un papo una chiavica personale proprio bello ok adesso cosa devo fare mi distacco chi è che è rimasto in chat nessun altro no chanel si è venuto ma c'è il programma delle cuffie no no era crashato ah era crashato ok no come eh si no allora però non so neanche penso che ci senta però non può parlare se non ricordo mai non ci vuole esprimere il suo di sapore di sapore allora giorgine basta garoscio potrei usare ma non voglio far perdere le partite la cazzo l'è provata la nuova cosa di anna ma giorgato ok l'ospedale è diventata ancora meglio prima almeno ci può stare di più in fight e venivate varie prima era ci morivi veramente male ma veramente male allora stavo vedendo che è che posso prendere vabbè dai andiamo di tank e te ah è modificata il tenente morales quindi adesso c'è l'energia prende la cura è un po' legge perché è diverso ti lascio anche il link se vuoi poi diventare follower su Twitch mi faresti un grossissimo favore anche perché Emanuele non c'è vero Emanuele cosa non c'è no io mi sono scritto sul canale ah no YouTube eh e viene anche su Twitch a me non mi fai aumentare come follower ma non si deve pagare il follower no no non si deve pagare niente no no è tutto gratuito non ti preoccupare su quello almeno no è solo se mi aggiungi come follower tanto anche vedi se c'è come si chiama se stiamo giocando o meno visto che io quasi sempre streamo quindi anche con gli altri ti dici come si chiama eh guarda te l'ho messo nel canale del social ma no così mi fai il favore anzi se lo condividi è ancora meglio così c'ho anche adesso abbiamo fatto un gruppo di mi sembra una quindicina di persone dove chi è che streamano poi facciamo le organizzazioni per fare anche i raid alle team league e quindi di conseguenza è tanta roba infatti Dest è uno di Twitch che abbiamo fatto e anche lui sa giocare abbastanza bene quindi se riusciamo a fare non solo le live ma che raid dove? eh? raid su World of Warcraft raid su World of Warcraft cioè che cosa è questo raid? no se facciamo le cose come si chiama le... aspetta non do neanche vici abbiamo addizionato anche una marea di persone tra l'altro c'era... c'è Anakin e chaton che sono veramente pesanti come giocatori intanto io vado a lasciare c'è un po' non è anche un po' anche un po' No, siamo negli attari? No, no, no E cioè è chiaro, siamo negli attari e abbiamo Abbate, ovviamente Tutti al centro, io cazzo sempre a pisciare Visto che bello, siamo negli attari e abbiamo Abbator Ciao Vito, passa poi Ah ti saluta Vito, Shanitz Ah anche Malak la potevo invitare, aspetta un po' Tanto che ci sono Vado giù Anche Malak è bravo come giocatore Chi è che c'è, chi è che c'è No c'è zero No, l'ho evitato Nel culo Vediamo se l'abbiamo tornando male No L'abbiamo tornando male L'abbiamo tornando male No Via di qui, via di qui Via di qui Stanno facendo tutto giù Vengo giù Giù ci perdiamo la torre Abbator non stare fotte E ecco Vengo giù Un po' si usciuto fuori Ma le vado a to «Esta » «Istituto» «Il loro dobbia» «Istituto» «Preparatevi a conquistarli» «Cinna incantina» «Uno lato è scena » «A casa è uscito fuori» c'è un momento dai 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 no 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 e dai che cazzo ho visto il rosso è una una czovo di sopra lo perdiamo fatto non c'ho più ma non c'ho più ma una becca una marea di bordata adesso è quasi morta anzi non è quasi morti devo andare a recuperare mano non c'ho più ma mi aiuti shanet a questo campo anzi stai mid quando mi sembra, anzi no stai mid stai mid poi quando mi sembra pure do una mano a sonio anzi a proporre dovrei anche imparare a giocare suono e mi chiamò un sacco di malo che li abbiamo fatti insieme ok giù c'è merda giù dobbiamo difendere forza smulladin sposta con i campi il problema è che abbiamo 18 secondi e poi bisogna ritornare subito su dai salto 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 vabbè lascio stare subito su adesso che fa ancora qua sta sto muore che ci si va vai 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 muori caffè uo lo ho preso il loro no si bambini capito su un po loro sono due e meno sì però non c'è un curatore proviene a levare valla vado giù qualcuno qualcuno su se andiamo di destra non so perché c'è abbastanza è un bel 10 oh no allora mi serve quattro persone per finire a questo oddio Uther qui no 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 bello questo però no no ok l'ho detto zero dovevo farlo non è puro ok vediamo facciamo fredato e facciamo con gli altri un po' del conto giù intanto lo pulisco l'altro stato di cui è stato fatto un po' di merota no andiamo indietro ok almeno si radunano un po oh oh bene bene bello dai no ma sto in alto eh niente 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 ah che sfide io mi sono dovuto ottenere per maglietta per non andare a morire eh eh si stanno attivando oh ok adesso no c'è la stile sotto ah 17 seconda e io ho anche poco mana tra l'altro prendete 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 veloci dai 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 eh non ce la faccio eh non ce la faccio eh non ce la faccio bene bene oh no ma te ne rendi conto niente via no sono morto oddio non sono morto oddio Morales oddio Morales madonna non so quante volte l'ho stata del culo ma no andate avete preso? perfetto ah c'ho preso ah c'ho preso ah c'ho preso prima dai a fare mana non c'ho non c'ho mana non c'ho ah 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 mi chiesce la mana sto cazzo di personaggio muore con un pill ah 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 ok ah 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 eh zara tool oh zara tool zara tool non ha più cosa mia per ieri l'occasione torta grande quanto spavano i cosi? facciamo il boss no 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 c'è mura di un troppo vicino 2 secondi prendete i cosi subito almeno il nostro vieni indietro vieni indietro serviva solo per rompere il cazzo anche per prendere tutte le bombe no ahhh che sfida e vabbè nooo cazzo nemmeno presi 3 no no tomate via 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 e via brava ok no non ci morire il sole no c'è morto ok muradino si fa il campo rosso non c'è dove è? è qua a volerire vado giù madonna cucane è malevato? niente dai perde con questi deficienti veramente brutto ci ha messo abato questa mappa che è utile quanto buu guarda ma che cazzo ha preso abato? ma non è che sta giocando male c'è un sacco i danni e cose però questa mappa c'è congiore uno in me non serve a nulla a parte che non ho preso ancora torre vabbè ha preso un cazzo ha preso quello delle due di ispezione profilica richiesta del mule e mostruosità vabbè adesso c'è da difendere giù perchè ci arrivano quelli piccolini ci arrivano invece noi adesso c'è da difendere giù che cazzo davi ritorni ora che si è più alto se il poi che posto dove loro diritto non so se non tanto e va bene ho capito vabbè comunque dai vediamo ok ti faccio una chiamata dato devo portare un ventino si chiama junior dove c'è il lavoro che adesso lavora no fa il cuoco aiuto cuoco si va bene ha 14 anni va bene sai bisogna iniziare presto adesso non piazzarmi va bene te lo dico che si chiama dopo le due e mezzo va bene lo dico non è un giudice di non sono io che non non va bene ma qua te di paracola ci va bene la macchina era divertente no di venire in macchina da portogallo era divertente ora una volta gli altari emergono eh dimmi ho detto no ho detto venire dal portogallo in macchina era divertente su questo fuori a omicina l'ora è giunto ah bella eh che po' eh beheh quello era da immaginare va bene dai ti chiamo dopo ok? dobbiamo prendere la torre mido dobbiamo prendere la torre mido dobbiamo prendere la torre mido va bene l'abbiamo presa guarda l'abbiamo presa? ok andiamo a tenerla adesso oh c'è la zera a pulla ok 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 prendiamo le torri e abbiamo vinto prendiamo troppo dicendo troppo no vado giù troppo effetto ok l'hai fatto un po' più avanti valla vabbè vabbè comunque abbiamo recuperato parecchio dai ne prendiamo uno abbiamo vinto però ne prendiamo uno in realtà bisogna prenderli assolutamente almeno il primo uno abbiamo vinto gg mamma mia come abbiamo vinto grazie a cosa? grazie a Daba grazie a Daba tu l'abbiamo vinto ci arrivo io vado a mangiare signorini e poi ci sono dopo vado anch'io così almeno dopo ci ribechiamo vado anch'io e te ricordati addizionati al canale che è mai così dai ci vediamo dopo raga ciao ciao